Fratelli d'Italia ha una posizione netta e chiara. Da un lato siamo vicini dal punto di vista umano ai bimbi, alle donne e agli uomini che sono stati trasferiti da Lampedusa in Abruzzo. Dall'altro siamo molto critici nei confronti del governo di centro-sinistra perché sta attuando una politica sulla immigrazione totalmente non condivisibile. Siamo preoccupati dal fatto che c'è una carenza delle verifiche sanitari in atto, siamo preoccupati dei nuovi casi positivi che sono risultati nel comune di Moscufo e anche nel comune di Gissi, siamo preoccupati che possa ripartire la piaga delle contaminazioni, siamo preoccupati dal fatto che c'è un silenzio assordante da parte del centro-sinistra su questa situazione molto allarmante e non condividiamo il fatto che i sindaci dei territori interessati non sono stati assolutamente notiziati di quello che stava per arrivare.